Ieri e l'altro ieri sono stato a Lucca per incontrare degli autori per la nostra attività dell'Apostolato Culturale di Fede e Cultura. E ho colto l'occasione anche per visitare questa bellissima città di Lucca che è un gioiello veramente nella Toscana. La città dalle cento chiese viene anche chiamata perché effettivamente ad ogni angolo si trova una chiesa, una chiesa bella, una piccola, una grande. C'è una quantità di chiese impressionante, segno che la fede, la fede cattolica nei secoli passati ha veramente permeato di sé la vita della città. Devo dire che ho avuto anche una, forse anche più di una, forte delusione perché in ordine la maggior parte di queste chiese erano chiuse, se ne vedeva la facciata. Vabbè, forse sono troppe, non hanno il personale per tenerle aperte eccetera, va bene. Comunque deludente è lo stesso. Poi entro in una chiesa e mi fanno pagare. Vabbè, anche questo è accettabile perché effettivamente tenere del personale per delle visite che non sono spirituali, non sono di devozione, non sono per il culto ma sono esclusivamente delle visite turistiche perché in questi giorni Lucca è piena zeppa di turisti, ebbene il personale costa ed è giusto che venga pagato e che chi si occupa della chiesa raccolga insomma dei contributi per pagare questi dipendenti. Poi vado per visitare la cattedrale, la cattedrale di Lucca, e mi trovo davanti un bel cartello che per visitare la cattedrale è obbligatorio avere il Green Pass, questo balzello, questa assurdità anticostituzionale, discriminatoria, illegale, condannata dall'Europa, via di seguito, ma per entrare ci vuole questo benedetto Green Pass. Io siccome sono cattolico, credo che per entrare in chiesa mi serve fondamentalmente una cosa, il desiderio di incontrare il Signore, poi magari per accedere ai sacramenti anche ci vuole il battesimo, non avevo e non ho questo Green Pass perché ci tengo alla mia libertà e non sono disposto a venderla in cambio di queste piccole libertà che sono conculcate dal nostro governo. E quindi non ho potuto entrare, c'è entrava una marea di gente, tutti lì con il cellulare facendo vedere il loro Green Pass che veniva scannerizzato, lasciamo perdere l'aspetto legale che è assolutamente una cosa improponibile, gravissima, ma entravano le turiste come di solito entrano a fare le visite turistiche, con minigonne ascellari, insomma con un modo di vestire che non era consono a una chiesa e una cattedrale, ma quelle erano benvenute perché pagavano e perché avevano il Green Pass. Ebbene mi è venuto a pensare che questa non è più se non la chiesa di Stato, una chiesa che si è messa a disposizione per realizzare tutte le agende del governo. Non importa niente che il governo in chiesa non governi, ma la chiesa gli si è sottomessa lo stesso, discriminando effettivamente poi non solamente quelli che non vogliono saperne di Green Pass e tutte queste cose qua, ma soprattutto discriminando in chi è cattolico. Il cattolicesimo, quindi mi è venuto da pensare che ormai si è diventato un vestito vecchio fuori moda, di cui la chiesa stessa si vergogna. Il battesimo, che dovrebbe essere, diciamo così, quello il vero lascia passare per entrare in chiesa e accedere ai sacramenti, è diventato inutile. La grazia è un ferro vecchio. L'importante, questa nuova chiesa compromessa, è fatta, si serva e zerbino del mondo e del governo, è adeguarsi alle imposizioni dello Stato. È una nuova religione effettivamente, ma non è la mia, non è la nostra di noi cattolici. Ed effettivamente noi cattolici, che vogliamo conservare la nostra libertà e che consideriamo la chiesa una chiesa, non siamo stati ammessi a visitare la cattedrale. È una cosa molto triste, terribile. Poi un'altra cosa mi ha veramente fatto soffrire. Vado alla Santa Messa nel santuario dedicato a Santa Gemma Galgani, questa grande santa, devota dell'Eucaristia, stigmatizzata, una vita straordinaria, morta a 25 anni. Vado e quando sento anche una bella predica, tutto bello, va bene, ci sono i padri passionisti lì che tengono questo santuario, ma quando è il momento di fare la comunione il prete passa in mezzo ai banchi a dare la comunione, tutti stendono le mani, io mi metto in ginocchio e aspetto di riceverla sulla lingua come è diritto dei fedeli statuito dalle leggi, delle regole della Santa Chiesa. E il prete, prima di tutto, non lo dà in bocca a mia moglie. Mia moglie che è più buona di me e che forse anche più saggia e che ha capito quello che io dicevo e che dico ancora che l'importante è ricevere Gesù più che come riceverlo, allora lei a malincuore stende le mani e riceve Gesù per fare la comunione. Io invece dico davanti al prete che mi dice no, lo devi ricevere in bocca, lo devi ricevere, scusate, sulle mani, gli ho detto no, è un diritto inalienabile dei fedeli ricevere la comunione sulla lingua. E lui mi dice e allora non te la do e se ne va. Lì veramente mi stavano per saltare i cinque minuti, gli ho detto semplicemente che Dio ti castighi. Lui ha continuato il suo giro, poi quando ha finito è tornato verso di me ad alta voce ha detto certo se quello è l'atteggiamento con cui tu volevi fare l'eucaristia ricevere Gesù è stato meglio che io non te lo abbia dato. Allora quindi questo prete si è permesso di fare un giudizio morale su di me negandomi l'eucaristia perché la volevo ricevere secondo quello che la chiesa raccomanda e che i sacerdoti sono obbligati a fare se uno lo desidera. Un giudizio morale su di me come non meritevole di ricevere l'eucaristia perché la volevo ricevere in ginocchio e perché siccome mi sono girati i maroni perché non me la dava gli ho detto quello che è giusto, ho rimesso a Dio la giustizia sulla questione, cioè che Dio ti castighi, cioè ti dia per quello che hai fatto. E lui a rincarare la dose gli ho detto ma guardi che è proprio un diritto nostro sancito dalla Santa Chiesa, la prenotanda della liturgia, dal diritto canonico. E lui mi risponde questo asino ed è un mio diritto di non dartela in bocca. No caro mio gli ho detto non è per niente un tuo diritto di non darmela in bocca, è un tuo dovere perché la chiesa stabilisce così. Lui se n'è andato e gli ho detto cattivo pastore ed è finita così. È stata veramente una cosa sgradevole, spiacevole, dolorosa. Andiamo in chiesa ormai per essere violentati da questi asini, asini sull'altare. Diciamo la verità, perché asini? Perché non sanno le regole della chiesa, non sanno nulla di teologia, hanno imparato un sacco di cretinate, di Karl Rahner e bestialità di questo genere, sono informatissimi di tutti i dpcm e tutte le sciocchezze che passano in televisione, ma di quello che insegna la chiesa, delle regole della chiesa zero zerella. Allora non c'è più la certezza del diritto dentro alla chiesa. Quando c'è un conflitto ci si deve rifare alla legge. C'è un conflitto tra io che voglio riceverla sulla lingua e tu che non me la vuoi dare? C'è la legge e la legge della chiesa dice si deve dare sulla lingua se uno lo vuole, anzi quello è il metodo preferibile. Nonostante la raccomandazione della conferenza episcopale, e qua dovrei fare un brutto gesto alla parola la conferenza episcopale italiana, che raccomanda di darlo sulla mano per motivo del covid e via di seguito, come se questo potesse cambiare qualche cosa o servisse a qualche cosa, o se fare quei gesti scaramantici che è mettersi il disinfettante sulle mani prima di ricevere la comunione servisse da un punto di vista medico a qualche cosa. No, non è un gesto medico, è un gesto scaramantico che è l'opposto della vera religione che è quella cattolica. Ma tant'è, ormai si crede a questa nuova religione. Ma questa non è più la nostra chiesa, non è la chiesa di Cristo, una chiesa che violenta i suoi fedeli dei preti che fanno a modo loro, a modo loro e violentano la nostra sensibilità. Cosa fare? Non lo so. Certo che questa sofferenza la possiamo offrire a nostro Signore per la salvezza della chiesa che ne ha tanto bisogno. Un'altra cosa vorrei dire anche, effettivamente a me mi è venuta un'ira funesta, l'avrei strozzato lì seduta stante e forse avrei fatto anche bene. Tuttavia, questo è uno scherzo evidentemente, ma non puoi tanto. Devo dire anche che effettivamente il Signore ci dice attraverso la Sacra Scrittura, nell'ira non peccare. È vero che ricevere la comunione sulla lingua è un nostro diritto. È vero che è il modo più vero di rendere onore a nostro Signore. È vero che ho ragione. Quindi siamo solo dalla parte della verità, sì. E quel prete è dalla parte del torto? Marcio. Marcio è, dal punto di vista canone, un criminale. Da punto di vista umano non diciamo cos'è per non scendere troppo in basso. Tuttavia, il nostro dovere, il mio dovere di cristiano, che cos'è? È quello di conservare la carità anche nel dire la verità e anche nel far valere i miei diritti. Quella carità che a volte nell'ira a me capita, non lo nascondo neanche, mi scappa via la carità, la perdo, perdo l'umiltà, mi girano i polmoni. Insomma, ecco, quindi allora sappiamo che ci troviamo in questa situazione nella Chiesa, sappiamo che è una situazione veramente terribile, di apostasia ormai gridata dai pulpiti, però ancora Gesù è presente, Gesù ci si dona, Gesù soffre nelle sue membra che siamo noi questa violenza del Sinedrio, dei sommi sacerdoti, dei sacerdoti, degli scribi, degli dottori della legge che sono poi gli assassini di Cristo, ma noi sappiamo che Cristo risorge dalla morte per la nostra salvezza e per quella di tutti quelli che l'accettano. Fede e cultura di Giovanni Zenone, per conservare la fede, la ragione e il gusto della vita.